Più di un anno fa faccio una richiesta formale all'allora assessore Minuturi evidenziando il fatto che una sede distaccata del comune di Messina non abbia il bagno di sabbili che è previsto per legge, cioè ricordiamoci che un'attività commerciale in centro se non ha il bagno accessibile riceve una multa, quindi è paradossale che il comune di Messina nella fattispecie nella sede della terza municipalità che è la più popolosa della città di Messina e quindi riceve tantissimi utenti, non abbia il bagno per disabili. Una richiesta fatta oltre un anno fa ripetuta più volte in ultima istanza all'ex direttore generale Federico Basile il quale mi risponde effettivamente facendo anche lui un sovalluogo e appurando l'assenza del bagno impegnandosi, era il mese di novembre che entro 15 giorni ci avrebbe dato risposta avviando un iter per far sì che si facesse e si realizzasse questo bagno per diversamente abili. Il bagno ancora in quelle condizioni, nel frattempo è stata avviata la campagna elettorale, altri pensieri, altri programmi e progetti? Sì, questo mi dispiace, a prescindere dagli schieramenti politici, se davvero una campagna elettorale ci possa distrarre dalla realizzazione di un bagno accessibile, mi dispiace molto perché qua parliamo di totale discriminazione, di una mancanza di rispetto per persone che hanno una disabilità e quindi veniamo contro la loro anche dignità. Non mi resta adesso che scrivere al neocommissario per colmare questo deficit. È grave quanto dalle denunciato, non bisognerebbe sollecitare ma probabilmente tutte le sedi del Comune di Messina dovrebbero essere messe nelle condizioni di poter garantire l'accesso ai disabili. La rampa c'è ma se un disabile ha necessità dei servizi igienici non può accedervi. Sì, se ne parla tanto e quindi è giusto che la politica e le istituzioni diano l'esempio per primi.